Salve a tutti da Francesco Samani. Oggi vedremo per il concorso docenti sia ordinario che straordinario e il TFA, una metodologia didattica che è strettamente corredata alla serie di dirette live che ho fatto più per cultura generale e quindi ho deciso di non inserirle nella playlist specificatamente orientata alla preparazione del concorso. Questa metodologia didattica fa parte di quelle inerenti alle strategie comunicative. Se siete interessati, ripeto, più per cultura generale a tutto ciò che riguarda la comunicazione, potete vedere gli ultimi 4-5 video. E questa metodologia didattica appartenente alle strategie comunicative si chiama Group Reading Activity e tradotta Gruppo di lettura attiva. Allora, essa consiste in un modello di insegnamento che è di gruppo, quindi metodologia didattica di gruppo che ha come obiettivo lo sviluppo negli studenti di capacità di lavorare insieme. Essa, infatti, fornisce un sistema più efficace di linguaggio nel parlare, nello scrivere, nel leggere a gruppi e a lavorare armoniosamente insieme, favorendo una compartecipazione e un'interdipendenza attiva. Si sviluppa in fasi. La prima fase è la scelta e la preparazione del testo, nella quale l'insegnante prepara la lettura di un testo sulla base dell'unità precedentemente sviluppata. Padate bene che io utilizzo il termine unità per non parlare né di unità didattica di apprendimento, né di unità didattica, voglio generalizzare, cioè focalizzarmi più sulla metodologia che poi sul fatto che sia unità didattica o unità didattica di apprendimento. La classe viene divisa in gruppi nella seconda fase. Vedete che molte strategie o metodologie didattiche sono similari e i gruppi sono formati da 4-5 studenti. Dopodiché vi è una terza fase di lettura in gruppo dove ognuno legge in silenzio e solo relativamente agli argomenti più difficili l'insegnante può dare degli spunti e delle riflessioni o degli aiuti. Quindi fornire un percorso guidato. C'è un'ulteriore fase di condivisione di ciò che si è letto e della riflessione in classe. Quindi ogni gruppo finito di leggere, non prima della fine del tempo prestabilito, condivide la riflessione versionale con quella degli altri e a questo punto vengono trascritti su un foglio le connessioni che emergono. Quindi fa parte di questa fase stesura delle connessioni e dei commenti. Voltiamo pagina. Pagina 1 Sapete che non mi ricordo come si fa? Allora, questo è lo zoom. Se voglio aggiungere pagina, inserisci pagina. Eccolo qua. Allora, vi è una quinta fase nella quale vi è lo scambio critico delle riflessioni. Questa è la fase forse più importante, più importante anche perché è una fase sociale. È una fase nella quale ogni gruppo con la direzione d'orchestra, insomma, dell'insegnante ascolta uno studente scelto dal gruppo stesso per ascoltare ciò che è stato elaborato e lo studente nel condividere le riflessioni del proprio gruppo poi deve confrontarsi con eventuali domande come ad esempio perché la pensate così come avete risolto questo problema qual è il vostro punto di vista a riguardo Dopodiché vi è una rielaborazione ossia tutti gli elementi critici che si evincono dal confronto vengono rielaborati quindi una rielaborazione relativa agli elementi che si sviluppano intorno al confronto in classe sicuramente poi c'è una regia dell'insegnante il quale circola tra i banchi consulta i gruppi intervenendo per dare spunti ulteriori spunti riflessivi e soluzioni e terminato il lavoro invita i gruppi a rappresentare ognuno deve rappresentare il proprio lavoro e quindi vi è la presentazione del lavoro del gruppo e in ultima istanza vi è la verifica con ulteriori commenti bene abbiamo visto questa metodologia che essenzialmente serve facilita il pensiero critico ovviamente vi ricordo già Socrate che sosteniva come il pensiero nascesse dal dialogo dalla contrapposizione dal confronto dall'argomentario per sostenere le proprie tesi e le proprie opinioni quindi si sviluppano anche capacità relazionali e comunicative sviluppo delle capacità relazionali e comunicative quindi qualora voi pensiate che l'unità debba essere aiutata o la classe debba essere aiutata in questa direzione dello sviluppo del pensiero critico delle capacità relazionali delle capacità comunicative ovviamente dello sviluppo e della gestione delle emozioni perché ci si confronta in classe sicuramente c'è anche una fase di organizzazione del lavoro dello sviluppo del senso critico scusate qua ho scritto male del senso che è sopra col bordo critico e ovviamente tutto quello che è inerente a quanto ho detto quindi anche l'accettazione di idee diverse accettazione e confronto con idee diverse quindi lavoriamo sicuramente sulla socialità sulla socializzazione sul confronto sul debate che viene insomma dall'inglese quindi un confronto dialettico e anche formale nel quale diversi gruppi sostengono e contrabattono affermazioni relative a un argomento proposto dall'insegnante o eventualmente anche liberamente scelto dagli alunni apportando tesi e ipotesi a favore o contrario a quanto discusso bene io con questo vi mando un caloroso saluto che ovviamente è sempre da me da Francesco Samani alla prossima